Musica Ora che la sera scende il già Ora che non so come sarà Domani Di scena la categoria Juniores con il secondo Gran Premio Garfagnana Memore alla Gino Bartali e Silicagnana che ospita questa gara riservata appunto alla categoria Juniores che vedrà al via 109 corridori dei 130 iscritti prima di tuffarci a pieno titolo nell'agonismo vero e proprio che ci riserverà la gara un rapido sguardo a quello che è l'abitato di Silicagnana questo borco della Garfagnana che va ad ospitare la gara ricordiamo che comunque la gara è all'interno della fiera, della sagra, dei maccheroni che comunque è sicuramente già di per sé un elemento attrattivo solo per poter venire a Silicagnana e quindi anche una rapida occhiata perché il ciclismo è sia agonismo ma dalla possibilità di vedere tanti posti e tante zone della Toscana e dell'Italia che vale la pena sorfermarsi un attimo e perché no anche pensare un giorno di venire a fare una visita proprio a Silicagnana magari approfittando anche dei giorni della sagra che comunque sono vari fine settimana che allieteranno la zona come abbiamo già avuto modo di ricordare in occasione della presentazione che abbiamo fatto proprio in studio di questa gara ricordiamo che questa è la terza edizione della gara perché il primo anno era denominata Coppa Fiera di San Romano e il vincitore fu Vincenzo Albanese questa atleta che adesso ormai è dilettante ma già ben figurato anche tra i professionisti vincendo il trofeo Matteotti davanti a Nicola Snesi e Daniel Savini lo scorso anno con la denominazione del primo Gran Premio della Garfagnana la vittoria fu di Filippo Mori che difendeva i colori della Romagnano Romagnano che vediamo proprio alla firma in questo istante davanti al compagno di squadra Daniel Savini terzo Tiziano Lanzano quarto Tommaso Fiaschi e quinto Mattia Benedetti fasi preliminari quindi per quanto riguarda la partenza nel secondo Gran Premio della Garfagnana Memorial Gino Battoli ricordiamo l'organizzazione da parte della Livorno Cycling Team ASD andiamo a fare un rapido elenco delle squadre che sono rappresentate al Via il team Mamma e Papà Fanini di Livorno un rappresentante della Nazionale Brasiliana la Fosco Bessi Calenzano la Fausto Coppi la Ziraf la All Sport ASD la Campana Imballaggi la Mobiliare Ponsacco la Cinquale Faita Sali Alimentari la Elba Bike Scott la Figros la Romagnano Guerciotti la Stabia Ciclismo la New Project Team la Monsummanese la Scott la Secom Forno Pioppi il team Franco Ballerini il team Max Bici il team Pieri Calamai l'Unicash Cipriane Gestri e il Velo Club Empoli fasi preliminari quindi con il campione toscano Allori alla Via ricordiamo anche il collegio di giuria con la presidentessa Barbara Lorenzini il componente Rossana Pardini la componente in moto Elena Gradassi e il giudice di arrivo Alberto Martorini fasi preliminari anche il campione nazionale albanese Clidi Iaku che è tornato dopo la trasferta che gli ha permesso anche di vincere il campionato nazionale e ben comportarsi anche in quello a cronometro è tornato ovviamente nella sua formazione di origine che è quella appunto della Romagnano Romagnano che corre quasi in casa praticamente in casa e quindi sicuramente ci terranno a confermare la vittoria dello scorso anno del proprio atleta Filippo Mori queste appunto sono tutte le operazioni preliminari ricordiamo appunto 109 gli atleti alla via e il percorso che è abbastanza insidioso 110 km da percorrere una prima parte con un circuito pianeggiante un circuito più semplice da ripetere per tre volte poi un giro un po' più ampio che prevede anche il gran premio della montagna appoggio e poi ancora una volta un giro breve di quello che è denominato il circuito di Gallicano per poi arrivare fino alla conclusione con l'arrivo che porta appunto a Siliconiana c'è da dire che la la salita finale appunto viene fatta solo ed esclusivamente in occasione dell'arrivo della parte conclusiva anche se le difficoltà altimetriche non mancheranno sicuramente per quegli atleti che stanno per prendere il via abbiamo visto il team ballerini alla presentazione orfani del campione italiano che era impegnato in un'altra gara a tale proposito ricordiamo che nei prossimi giorni ci sarà una manderemo in onda una trasmissione registrata appunto insieme al campione italiano quindi magari rimanete nelle nostre rimanete sulle nostre trasmissioni che magari sarà possibile vedere come dire un'occhiata diversa sul campionato italiano conquistato appunto da Mattia Bevilacqua siamo alla via tratto di trasferimento come è giusto che sia visto che c'è questa partenza in discesa un pochino più insidiosa quindi giustamente tratto di trasferimento ad andatura turistica per raggiungere il chilometro zero per quanto riguarda la partenza ufficiale a proposito di prossimi appuntamenti per quanto riguarda la nostra trasmissione ricordiamo che andrà in onda domani la gara riservata alla categoria giovanissimi il gran premio industria artigianato trione ciclistica larcianese quindi diamo appuntamento già da domani anche per quanto riguarda la gara riservata alla categoria dei giovanissimi così come domani andrà in onda anche la piccola rubè la gara organizzata dalla polisportiva millerucci stiamo raggiungendo il chilometro zero quindi siamo ancora in fase di calma calma piatta in un certo senso anche se poi sono comunque chilometri che i ragazzi stanno affrontando in bicicletta però dovrebbe essere fatto in modo molto più tranquillo e molto più pacato da non dover come dire interferire troppo nella riserva di energie dei ragazzi che stanno affrontando comunque un bel successo per quanto riguarda Livorno Cycling Team per l'organizzazione di questa gara e stiamo al chilometro zero quindi piede a terra ci fermiamo per la partenza ufficiale sarà la consigliera regionale Luciana Gradassi a funzionare come starter della manifestazione quindi ancora pochi istanti per verificare che tutto fili nel modo giusto che tutte le auto siano nella giusta posizione e poi si parte partito ufficialmente quindi questo secondo Gran Premio della Guarfagnana Memorial Gino Bartali lo ricordavamo anche in sede di presentazione la denominazione con la Memorial a Gino Bartali proprio per perché ha una figlia che abita proprio qui e quindi giusto questo ricordo per questa figura importantissima del ciclismo toscano italiano e non solo lasciamo sfilare i ragazzi che per il momento non si vanno accusare la fatica visto che sono ancora nel tratto di discesa e sono appena partiti sicuramente questa per quanto riguarda il panorama toscano è sicuramente impegnativa come gara quindi vedremo se ci sarà qualcuno che avrà ancora voglia di scherzare tra qualche chilometro lasciamo sfilare tutto il gruppo tutto il gruppo dei 109 atleti che hanno preso il via e quindi avvio comunque piuttosto tranquillo per quanto riguarda i primi chilometri del secondo Gran Premio della Garfagnana Falconcini e Neri coloro che ci hanno permesso di avere informazioni per il servizio di radiocorsa e siamo al dodicesimo chilometro di gara con il primo attacco di giornata sono tre gli atleti protagonisti Roberto Rocchi del team mamma e papà Fanini poi con il dorsale 126 Marco Palatresi del Velo Club Empoli e il terzo componente di questo terzetto è Gabriel Cordero dorsale 112 del team Pieri Calamai tre atleti al comando per il momento il gruppo sembra disinteressarsi dell'azione di questo terzetto che fila via in buon accordo con anche un atleta della società organizzatrice che sicuramente ci tiene a far buona figura c'è un atleta che sta rientrando sulla testa della corsa è Lorenzo Cataldo del team Unicash Cipriani e Gestri quindi a breve potremmo avere quattro atleti al comando sicuramente l'Unicash ha fiutato il pericolo e ha giudicato che fosse importante avere un atleta sulla testa della corsa e quindi proprio in questi istanti diventano quattro gli atleti al comando questo è il gruppo che tutto sommato sembra andare ad andatura piuttosto tranquilla maglia della stabbia proprio sulla testa della corsa insieme a quella della Fosco Bessi dicevamo il gruppo che sembra disinteressarsi dell'azione di testa e infatti il loro ritardo dal quartetto al comando è di un minuto e cinquanta secondi siamo ancora nei primi chilometri di gara ma quando ci sono queste giornate così calde diciamo sempre che le azioni che cominciano a prendere troppo vantaggio potrebbero essere quelle decisive vedremo se il gruppo proverà ad organizzare un inseguimento oppure se qualcuno proverà a rompere gli indugi quello che è certo è che adesso i quattro atleti al comando hanno un minuto e cinquanta secondi di ritardo è leggermente cambiata la situazione sulla testa della corsa perché non fa più parte del quartetto al comando Roberto Rocchi del team mamma e papà Freni quindi uno degli atleti di casa e sono rimasti in tre al comando e quindi li ricordiamo ancora una volta abbiamo Cataldo per quanto riguarda l'unichesh per quanto riguarda il velo club Empoli è Marco Palatresi mentre l'atleta che vediamo è inquadrato adesso del team Pieri Calamai con il dorsale 112 è Gabriel Cordero quindi tre atleti al comando adesso è Cataldo che sta facendo l'andatura su Cordero e Palatresi che chiude questo terzetto e nonostante questo terzetto sia orfano di un altro atleta che faceva parte di questo drappello stanno andando avanti di buon accordo infatti il ritardo del gruppo adesso è decisamente salito è salito ancora due minuti e venti secondi sono gli atleti della Stabia che stanno provando ad organizzare l'inseguimento ma quelli dell'unichesh sembrano che vadano a stoppare l'azione insieme a quelli del team Pieri Calamai sicuramente comincia a essere un vantaggio di tutto rispetto per il terzetto al comando come detto due minuti e venti secondi il gruppo non sembra avere tanta intenzione di andare a recuperare chi c'è davanti perché si procede a scatti e questo si sa che va a favorire solo ed esclusivamente chi si trova al comando sicuramente tra i più attivi riconosciamo le maglie dello Stabia ciclismo e quelli dell'unichesh però come vedete si fa lo scatto poi ci si rialza per vedere chi ha recepito il messaggio o meno e questo fa sì che non si produca tanta velocità sul gruppo per cercare di inseguire chi si trova al comando un'altra un'altra immagine per gustarci il paesaggio che attraversiamo con questo secondo gran premio della Garfagnana si è ridotta ancora la fuga sulla testa al comando è rimasto ancora Cataldo dell'unichesh ed è rimasto l'atleta del team Pieri Calamai Gabriel Cordero che adesso sta facendo il suo turno sulla testa della corsa quindi è andata ancora a diminuire il numero si è dimezzato rispetto all'inizio quindi il vantaggio di chi si trova al comando comunque sembra ancora buono l'accordo per questi due atleti che compongono la testa della corsa siamo al circa al quarantesimo chilometro di gara e quindi appunto due atleti al comando vedremo se o come è cambiata la situazione alle loro spalle vediamo che Cataldo appunto si volta per cercare di capire com'è la situazione adesso va ad affrontare il suo turno sulla testa della corsa li lasciamo andare e qui abbiamo un altro esponente del team mamma e papà Fanini di Livorno con il dorsale numero 5 Lorenzo Grandi che è distanziato di una decina di secondi dai due atleti al comando quindi si sono sicuramente avvicinati i vari inseguitori alla testa della corsa ricordiamo che c'era prima un altro esponente del team mamma e papà Fanini che faceva parte della testa della corsa poi per caso di forza maggiore si è dovuto rialzare sta per ricongiungersi Grandi ai due atleti al comando ma anche il gruppo si mantiene vicino perché il gruppo è segnalato dalla testa della corsa a 15 secondi di ritardo quindi possiamo dire che dopo una paura iniziale con la fuga che stava decisamente prendendo spazio il gruppo è corso ai ripari e adesso si trova a soli 15 secondi dalla testa della corsa quindi sicuramente mi ha fatto un plauso a chi ha deciso di rompere gli indugi fin dalla prima dalla prima volta però adesso il gruppo ha decisamente reagito ai danni appunto di chi si trova sulla testa della corsa tratto di salita che porta verso la zona di arrivo ma come detto all'inizio non passeremo mai dall'arrivo e non faremo mai quella salita se non appunto nella conclusione gruppo che si è ricompattato e ci prova Clidi Iacu l'atleta della Romagnano c'erano gli atleti della Foscobessi a fare l'andatura ma il campione albanese ha decisamente rotto gli indugi in questo tratto di salita prova a fare la differenza eccolo qua Clidi Iacu l'atleta della Romagnano che come detto è tornato adesso dalla trasferta che gli ha permesso comunque di tornare con questa maglia quale vincitore del titolo nazionale della sua nazione ovviamente quella albanese e quindi adesso prova a fare la selezione se un atleta della Secom Fornopioppi che prova a riportarsi con il dorsale 92 è Giacomo Cassara quindi si forma questo tandem ma è veramente minimo con il campione toscano all'Ori che praticamente si sta impegnando in prima persona per ricongiungersi alla testa della corsa siamo ormai in vista del traguardo volante quando appunto siamo nella zona dell'arrivo come detto non passeremo mai dallo stagione d'arrivo si è formato un terzetto al comando ancora Cassara per quanto riguarda la Secom Fornopioppi poi con il dorsale 83 Andrea Vannelli della Monsumanese e con il dorsale 116 per quanto riguarda la formazione dell'Unicash è Davide Boni quindi tre atleti al comando che appunto si stanno avvicinando al traguardo volante c'è un'altra atleta che si sta avvicinando eccolo qua è una porta colori della New Project dorsale 76 per Gerenia Fedeli e quindi così come nella prima azione di giornata anche in questa azione tre atleti e un quarto che va a riportarsi in un secondo momento sulla testa della corsa intanto lanciata la volata per il traguardo volante con Buone dell'Unicash che si mette decisamente al comando per vedere magari di aggiudicarsi questo traguardo intermedio posto dall'organizzazione comunque questo è un tratto di strada che poi gli atleti faranno anche nel finale solo che loro nel finale gireranno e andare ad affrontare veramente il tratto più impegnativo della salita questa volta gli organizzatori sono stati un pochino più clementi e hanno optato se così vogliamo dire per una per una versione più soft lanciata decisamente la volata per il traguardo volante vada a giudicarsela agilmente l'atleta della Unicash Davide Boni che quindi vada a giudicarsi questo traguardo volante quando siamo praticamente alla 53esimo chilometro di gara ne approfittiamo per fare un po' il punto della situazione quindi lasciamo andare i quattro atleti al comando e questo è il gruppo alle spalle appunto della testa della corsa che è segnalato a 30 secondi di ritardo è Giovanni Minutoli della team Max Bici a fare l'andatura adesso proprio il gruppo che si trova nel tratto di falso piano adesso cominceranno un po' a scendere e ci stiamo un paio praticamente avvicinando al gran premio della montagna che è posizionato a poggio quindi veramente ovviamente la Garfagnana non può offrire che percorsi di questo tipo come si suol dire che vogliono vedere il corridore in faccia e qui siamo proprio nel tratto di salita che porterà al gran premio della montagna annullato il tentativo dei quattro atleti che abbiamo visto in precedenza adesso ci prova in solitaria Matteo Giacchi della New Project che ha visto salire la strada e si è portato solitario al comando per il momento l'Avanguardia Gruppo lo tiene più o meno a tiro anche se Giacchi continua a insistere nella propria azione vedremo se sicuramente questa salita farà un po' di selezione e come dire sparaglierà un po' le carte in tavola per comunque cominciare a far sul serio in questo secondo gran premio della Garfagnana a memorial Gino Bartali alle spalle di Giacchi che abbiamo lasciato andare si cominciano a muovere a 10 secondi sono segnalati due atleti con il dorsale 63 Diego Bartolucci della Stabia Ciclismo con il numero 92 Giacomo Cassarà ancora una volta della SECOM Forno Pioppi che praticamente si stanno riportando su Giacchi quindi si sta formando un terzetto sulla testa della corsa eccolo qua Giacchi che adesso viene ripreso proprio da Cassarà e da Bartolucci con Cassarà che poi fa fare anche il suo turno sulla testa della corsa intanto ancora più indietro stanno arrivando altri atleti arriva ancora una volta Boni Davide Boni dell'Unicash che quindi va ancora una volta a riportarsi al comando e si forma un quartetto ancora altri rientri dal gruppo Via Via che la strada magari lo rende un pochino più possibile dopo Boni arriva con il dorsale 49 Mirco Pierotti della Cinquale e poi arrivano altri quattro atleti riconosciamo con il numero 85 per quanto riguarda la polisportiva monsumanese Lorenzo Ratto poi abbiamo con il dorsale 14 Tommaso Pifferi della Fosco Bessi Calenzano poi con il dorsale 62 Filippo Magli della Stabbia Ciclismo e con il dorsale 105 Matteo Bursi del team Franco Ballerini quindi questi quattro atleti sono praticamente diventati gli immediati quattro inseguitori dell'attesa della corsa considerando che in me c'è Pierotti della Cinquale quindi una situazione estremamente fluida della corsa quando ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna che è posizionato al 66 chilometro di gara adesso questo tratto di strada favorevole sicuramente permetterà a chi sta inseguendo di guadagnare terreno comunque come dicevamo appunto una situazione estremamente fluida perché adesso stanno rientrando altri atleti e praticamente è l'avanguardia del gruppo del grosso del gruppo quindi un percorso selettivo ma anche altamente spettacolare che hanno messo su gli organizzatori della Livorno Cycling Team per questo secondo Gran Premio della Garfagnana Memorial Gino Bartali e questo fa sì appunto che adesso ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna infatti la strada comincia anche a risalire e questo sicuramente farà sentire la fatica nelle gambe di qualche atleta e quindi adesso vedremo come riusciremo a guadagnare la testa per dar conto ovviamente del Gran Premio della Montagna eccoli qua i quattro atleti al comando dove Cassara sta facendo l'andatura ma praticamente stanno rinvenendo tutta l'avanguardia gruppo quindi adesso ci avvantaggiamo per andare a vedere quello che sarà l'esito del Gran Premio della Montagna dove la gran parte del pubblico ha deciso di posizionarsi per vedere al meglio la gara e comunque anche per poter far rifornimento ai ragazzi come giusto che sia comunque una domenica di luglio decisamente calda quindi ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna ormai sono cominciati un po' i giochi scattaclidi scattaclidi della Romagnano scatta Iacu Clidi che probabilmente sarà lui che andrà ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna infatti è così prima posizione per Clidi Iacu seconda posizione per Federico Rosati della Secomo Forno Pioppi e terza posizione per Michael Cerri della New Project e adesso noi rimaniamo anche sul Gran Premio della Montagna per vedere anche la selezione che ha operato questa salita comunque vediamo che sono ancora tanti ragazzi rimasti in gara ricordavamo appunto 109 gli atleti che hanno preso il via e quindi sono ancora diversi coloro che stanno rimasti in gara siamo adesso in discesa questa ripresa ci permette anche di vedere la condotta di discesa purtroppo qualcuno ha avuto dei problemi per fortuna senza particolari conseguenze che poi tanto è quello che conta ai fini della gara quindi per fortuna tutto è andato nel miglior modo possibile quindi approfittiamo anche del tratto di discesa per fare dei ringraziamenti come al comune di San Romano in Garfagnana alla SD Silicagnana alla Livorno Cycling Team e la Federazione e poi un ringraziamento alla Banca Mediolanum alla Carrozzeria Imperiali alla Cooperativa Garfagnana alla Domenichini all'impresa Costruzioni Gino Guidi all'Acqua Bianca Marmi e alla Rossi Emiliano e un ringraziamento comunque a tutti coloro che hanno reso possibile questo secondo gran premio della Garfagnana con l'organizzazione della Livorno Cycling Team insieme all'importante e fondamentale supporto di Quinto Rocchiccioli ed è cambiata nuovamente la situazione perché a Teveni e discesa si è ricompattato il gruppo quindi gruppo compatto adesso sono le maglie della New Project e della Fosco Bessi a fare l'andatura adesso siamo all'ottantaduesimo chilometro di gara e ci stanno provando ancora due atleti con il dorsale 14 Tommaso Pifferi della Fosco Bessi Calenzano e con il dorsale 62 Filippo Magli della Stabia Ciclismo quindi c'è da registrare quando siamo all'ottantaduesimo chilometro di gara questo nuovo tentativo protagonista in maglia della Stabia della Fosco Bessi Calenzano lasciamo andare i due atleti al comando per cercare di capire com'è la situazione alle spalle di questi due atleti che si stanno comunque impegnando in questo tratto di strada adesso è proprio la volta di Pifferi di fare l'andatura nei confronti di Magli buono comunque l'accordo tra i due atleti al comando che comunque sperano sicuramente che ci siano altri rientri per vedere di comunque poter far qualcosa di più importante a 15 secondi c'è segnalato appunto questo drappello piuttosto numeroso quindi all'inseguimento abbiamo a 15 secondi con il dorsale Yuri Botti della New Project con il 61 Gabriele Ninci della Stabbia Ciclismo con il 48 abbiamo Luca Ambrosi della Cinquale con il dorsale 17 Alessandro Iacchi della Fosco Bessi con il 116 Davide Boni del team Unicash poi ancora con il 130 tra gli immediati inseguitori Emanuele Pitino del Velo Club Empoli questi atleti sono segnalati a 15 secondi di ritardo ancora più indietro abbiamo questo terzetto con il dorsale 80 Matteo Severi della New Project con il 93 Federico Rosati della Second Forno Pioppi e con il 117 Lorenzo Cataldo della Unicash questa è l'avanguardia gruppo di fatto anticipata dall'atleta dell'Unicash della Stabbia Ciclismo che è segnalato comunque piuttosto vicino perché sono 22 secondi il ritardo dell'avanguardia gruppo dalla testa della corsa quindi ancora una situazione estremamente in divenire anche se la fuga che si sta componendo proprio sulla testa della corsa comincia a essere interessante e piuttosto numerosa infatti si è ricompattata la testa della corsa quindi al comando abbiamo con il dorsale 117 Lorenzo Cataldo e con il 116 Davide Boni in termini dell'Unicash Cipriano e Gesti con il dorsale 74 Matteo Giacchi della New Project poi abbiamo due atleti della Stabbia Ciclismo Gabriele Ninci e Filippo Magli poi con il numero 48 abbiamo tra gli atleti al comando Luca Ambrosi della Cinquale poi è rientrato anche il suo compagno di squadra Andrea Antonioli poi abbiamo con il dorsale 31 Lorenzo Verdiani della All Sport con il 93 Federico Rosati e con il 92 Giacomo Cassarà entrambi della Secom Forno Pioppi poi con il dorsale 77 Yuri Botti con il 74 Matteo Giacchi con l'80 Matteo Severi tutti e tre della New Project poi con il 101 Nicola Sregnoli del team Franco Ballerini poi ancora con il dorsale 14 Tommaso Piffide con il 17 Alessandro Iacchi della Fosco Bessi Calenzano questo il drappello che si è formato al comando il gruppo intanto alle spalle sta inseguendo a 20 secondi di ritardo è la Romagnano che si sta impegnando nell'inseguimento perché è una delle formazioni che non ha nessun atleta sulla testa della corsa quindi è anche abbastanza logico che sia questa la formazione che va a impegnarsi nell'inseguimento poi comunque riconosciamo proprio nelle posizioni dietro gli atleti del team Franco Ballerini e della Fosco Bessi Calenzano anche con il campione toscano e quindi il gruppo è comunque segnalato a 20 secondi di ritardo dalla testa della corsa intanto un ringraziamento alla GBC Marmi all'agenzia Funebre Garfagnana alla Costruire Lavorazione Ferro la Luana Marmi l'impresa di costruzione Rossi la Garfagnana Impasta e il ristorante Colle del Pellegrino questo è il gruppo quindi che si sta impegnando nell'inseguimento ai danni di questi atleti invece che si trovano al comando inizio salita per la testa della corsa non la salita che porterà all'arrivo ma quella che lambirà la zona dell'arrivo andiamo a ricordare chi sono gli atleti al comando Tommaso Pifferi e Alessandro Iacchi della Fosco Bessi Calenzano Lorenzo Verdiani della All Sport Andrea Antonioli e Luca Ambrosi della Cinquale Gabriele Vinci e Filippo Magli della Stabia Ciclismo Matteo Giacchi Yuri Botti e Matteo Severi della New Project Team Matteo Baldasserroni della Polisportiva Monsumanese Giacomo Cassarà e Federico Rosati della Secom Forno Pioppi Nicola Svignori del team Franco Ballerini Davide Boni e Lorenzo Cataldo della Unicash Cipriane Gestri ed Emanuele Pitino del Velo Club Empoli quindi un drappello piuttosto numeroso e anche ben assortito con sicuramente la New Project che è quella la società maggiormente rappresentata con ben tre atleti e quindi sicuramente un tentativo che sta diventando di tutto rispetto e infatti alle spalle avevamo visto che la Romagnano aveva fiutato il pericolo perché infatti si era portata decisamente all'inseguimento di questa fuga che sembra perdere qualche componente vediamo proprio in fondo alla strada vediamo qualche atleta e vediamo anche l'atleta della Fosco Bessi che ha cambiato la bici probabilmente è stato vittima di qualche incidente meccanico e quindi approfittando di questo tratto di strada piuttosto favorevole ne ha approfittato l'atleta della Fosco Bessi per fare il cambio di bicicletta e quindi tutto sommato in modo piuttosto agile va a riportarsi sulla testa della corsa da Tommaso Pifferi che quindi va a ricongiungersi al drappello al comato qui siamo sul gruppo che ha praticamente lo stesso ritardo rispetto al passaggio precedente perché sono 25 secondi di ritardo per il gruppo è sempre a Romagnano a fare l'andatura adesso è Federico Marchi che si sta impegnando in prima persona per la causa della sua squadra che sta provando appunto a Matteo Panara scusate che sta provando a come dire a impegnarsi per ricucire lo strappo anche se non sembra esserci tanto accordo nel gruppo c'è da dire che la maggior parte delle squadre sono rappresentate nella fuga quindi magari non tutti hanno lo stesso interesse nel provare a ricucire lo strappo vedremo come si evolverà la situazione qui si continua a salire e vediamo che comincia anche a farsi sentire la fatica ovviamente le squadre che possono contare su più di un atleta in questa fuga cercano anche di dosare le forze nel miglior modo possibile come dicevamo la New Project è una delle formazioni anzi è la formazione che è maggiormente rappresentata e infatti non fa mancare il suo apporto in questa fuga adesso nella fattispecie è proprio Matteo Severi che si sta impegnando in prima persona a fare l'andatura ma prova a rompere gli indugi l'atleta della Stabia ciclismo Gabriele Ninci allunga in modo deciso l'atleta della Stabia ciclismo che già nel qualche metro precedente si stava guardando un po' intorno forse calcolava le energie rimaste tra quelli che stavano accompagnando la sua azione è un atleta della Secomo Forno Pioppi ci sembra il primo che prova a riportarsi su di lui ma rimangono anche molto vicini gli immediati inseguitori coloro che compongono la testa della corsa intanto un saluto a chi sta facendo il servizio di radiocorsa come cicli sport Masotti ci riprova ancora una volta Ninci ci riprova ancora una volta Gabriele Ninci una volta annullato il suo tentativo ha rifiatato proprio un attimo e ancora una volta provate a piazzare lo sprint lo scatto decisivo e ancora una volta un atleta della Forno Pioppi che sta provando a riportarsi su di lui siamo ormai a meno di 5 km dalla conclusione ed è Federico Rosati l'atleta della Forno Pioppi che si è praticamente riportato su Ninci quindi si forma un tandem sulla testa della corsa vediamo anche un altro atleta che sembra essere evaso dal drappello degli inseguitori nei confronti che si sta per riportare sul due atleti al comando quindi a breve potremo avere tre atleti al comando sembra una maglia della cinquale quella che sta per riportarsi sulla testa dovrebbe essere Luca Ambrosi l'atleta che di fatto anticipa il drappello degli immediati inseguitori che comunque si mantengono abbastanza in scia almeno ad Ambrosi così non è invece per i due atleti al comando infatti è così dorsale 48 per Luca Ambrosi della cinquale faita a sali alimentari che va a riportarsi su Ninci e Rosati e quindi si forma un terzetto al comando adesso è Rosati a fare l'andatura con Ninci che è giustamente rifiata considerando gli scatti che ha fatto proprio nel tratto di salita adesso da qui fino all'arrivo sarà solo salita quindi c'è anche da dosare bene le forze in campo questi invece sono gli immediati inseguitori dove Tommaso Pifferi a fare l'andatura che sono segnalati a 15 secondi di ritardo quindi non è ancora fatta per i tre atleti al comando perché questi tre questi tre atleti hanno solo 15 secondi di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori adesso sono gli atleti dell'unichesce Cipriani e Gestri sembra essere proprio Boni che sta provando ancora una volta a piazzare uno scatto che possa un po' rompere gli indugi perché adesso siamo comunque all'interno degli ultimi 5 chilometri lasciare troppo omagine a chi si trova al comando potrebbe voler dire salutare le possibilità di vittoria e sembrano capirlo infatti tre atleti al comando Ninci si riporta a fare l'andatura con Ambrosi e Rosati ovviamente cercano di girare al meglio possibile darsi la più massima collaborazione i tre atleti al comando perché ormai siamo in vista dei tre chilometri alla conclusione e quindi comincia a essere importante il cambio rota che va via non è un buonissimo segnale per chi si trova al comando ma non è questo il momento per farsi prendere dallo sconforto e sembra capirlo proprio Ninci che si porta ancora una volta al comando la teta dello Stabia ciclismo con Ambrosi e la sua ruota e Rosati in terza posizione di questo appunto terzetto non sembra affidarsi molto Ninci dei suoi compagni di avventura perché comunque anche se si mette al comando a fare l'andatura controlla sempre alle spalle quello che stanno facendo i compagni di questo tratto di strada ultimo rifornimento per l'atleta della Cinquare e noi lasciamo andare il terzetto al comando per capire com'è la situazione alle spalle sembra di esserci un po' di indecisione in questo drappello in seguitore sono 30 adesso i secondi di ritardo per il drappello in seguitore nei confronti del terzetto al comando adesso sono gli atleti della New Project che stanno provando ad impegnarsi con Cassara che va a proteggere l'azione del suo compagno di squadra che si trova appunto sulla testa così come sembra fare anche Magli che va a proteggere l'azione di Ninci gli atleti della stabbia ciclismo e quindi questi sono gli immediati inseguitori ovvero coloro che ancora potrebbero provare a far qualcosa per provare a cambiare l'esito della gara e che sono segnalati appunto a 30 secondi di ritardo dai tre atleti al comando la strada continua a salire quindi fare la differenza non è facile la strada continua a salire e il primo a fare le spese sembra proprio essere Luca Ambrosi l'atleta della cinquale quindi restano in due al comando Gabriele Ninci della stabbia ciclismo e insieme a lui l'atleta della SECOM Forno Pioppi Federico Rosati ed è proprio quest'ultimo adesso che passa a fare l'andatura con Ninci che si mantiene alla sua ruota anche se c'è da dire che comunque la strada sale quindi c'è poco da risparmiarsi stare a ruota o fare l'andatura cambia ben poco molto pimpante comunque Gabriele Ninci la teta dello stab abbia ciclismo adesso siamo proprio all'ingresso dell'abitato di Silicagnana quindi Ninci sicuramente sta facendo l'andatura e ha dimostrato veramente un bel colpo di pedale così come Federico Rosati che si è fatto trovare sempre pronto nel momento giusto ha sempre fiutato quale poteva essere l'azione buona e decisiva e quindi non si è fatto sfuggire non si vuole far sfuggire questo secondo gran premio della Garfagnana infatti sta franco bollato alla ruota di Gabriele Ninci che adesso il tandem sta affrontando questa leggera curva verso sinistra e la strada continua inesorabilmente a salire siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro eccolo qua ultimo chilometro con Ninci e Rosati e sarà un discorso tra questi due atleti per quanto riguarda il secondo gran premio della Garfagnana adesso Ninci si mette sui pedali e prova a stare un po' a ruota per provare magari a cogliere di sorpresa l'atleta della SECOM Forno Pioppio un'ultima occhiata dietro per Ninci per vedere se qualcuno sopravanza o se davvero sarà un discorso tra loro due per quanto riguarda la vittoria finale noi ovviamente abbiamo un'altra telecamera con Massimo Ciampi all'arrivo quindi questo ci permette anche di poter seguire più a lungo i ragazzi proprio anche in quest'ultimo tratto una rapida occhiata Ambrosi non è lontanissimo l'atleta che era l'ultimo che si è staccato ma si stanno muovendo anche dalle retrovie per quanto riguarda gli immediati inseguitori perché comunque siamo nelle fasi finali ormai chi ha ancora energie è destinato ed è giusto che le possa usare adesso si svolta a destra breve si svolta a destra e davvero comincerà la salita più dura lo strappo più duro nel passaggio precedente siamo andati dritti adesso invece si svolta a destra e la strada continua ancora a salire piccolo problema meccanico per Rosati ha avuto un salto di catena e sembra approfittarne Ninci potrebbe essere il momento adatto per Ninci per continuare a dare tutto quello che gli è rimasto nelle gambe per provare ad aggiudicarsi questo secondo gran premio della Garfagnana ma Rosati non molla prova Rosati in tutti i modi possibile e immaginabile adesso però sembra perdere ancora qualcosa l'atleta della Secomo Forno Pioppi mentre quello che non sembra perdere energie è proprio Ninci della Stabia Ciclismo che adesso è a 200 metri dalla conclusione continua a rilanciare l'andatura Ninci una rapida occhiata per controllare dove si trova Federico Rosati ma sembra ormai fatta per l'atleta della Stabia Ciclismo che ormai comincia ad accogliere anche gli applausi di tutti gli sportivi che sono intervenuti all'arrivo di questo secondo gran premio della Carfagnana memoria alla Gino Bartali e noi ci portiamo appunto con la nostra telecamera fissa proprio ad applaudire e ad accogliere la vittoria di Gabriele Ninci della Stabia Ciclismo con Federico Rosati che non può fare altro che accontentarsi della seconda posizione eccolo qua l'arrivo a braccia alzate dell'atleta della Stabia Ciclismo Gabriele Ninci prima posizione per lui con Federico Rosati che forse a causa dell'incidente meccanico o forse no è costretto ad accontentarsi della seconda posizione 10 secondi il ritardo per Rosati intanto arriva in terza posizione una tetra della Fosco Bessi Calenzano che quindi va da giudicarsi il terzo gradino del polio ed è Alessandro Iacchi che va da giudicarsi la terza posizione poi una maglia della Uniquesci in quarta posizione è quella di Davide Boni che taglia il traguardo adesso e poi arriva in quinta posizione Filippo Magli dello Stabia Ciclismo sesta posizione per Sabri Taffa della Stabia Ciclismo poi settima posizione per Luca Ambrosi della Cinquale ottava posizione per Leonardo Aposti dello Stabia Ciclismo nono Andrea Antonioli della Cinquale e decimo Matteo Severi del New Project questo l'ordine di arrivo per quanto riguarda il secondo Gran Premio della Garfagnana Memorial Gino Bartri vediamo che i ragazzi arrivano proprio stremati a conclusione di questa salita è veramente una grande fatica per questi ragazzi che comunque sprintano fino all'ultimo per comunque guadagnare posizioni nel tratto proprio nel sotto lo striscione di arrivo e considerando comunque che sono stati in 109 a prendere il via e considerando la durezza della gara sono stati piuttosto numerosi coloro che hanno poi terminato la gara noi ricordiamo la vittoria appunto di Gabriele Ninci l'atletta portacolori dello Staba Ciclismo che ha percorso i 110 chilometri in 2 ore e 53 alla media di 38 e 150 un saluto anche al direttore di corsa Luigi Chichi coadiuvato quest'oggi da Gioia Bertolaccini che hanno permesso lo svolgimento e questa immagine ci permette di vedere la fatica proprio dei ragazzi che una volta tagliato il traguardo davvero sono stremati e si devono riposare immediatamente adesso noi vi lasciamo alle interviste e alle immagini delle premiazioni Gabriele Ninci Staba Ciclismo bella affermazione per te raccontaci un po' come è andata la gara sì siamo andati via in un gruppetto a circa 30 dal traguardo e ce l'abbiamo fatta a mantenerlo fino a 5 chilometri dal traguardo a mantenere il vantaggio a 5 chilometri dal traguardo ho deciso di avvantaggiarmi perché l'arrivo si adiceva alle mie caratteristiche e siamo rimasti in tre Rosati e un ragazzo del cinquale a tre dal traguardo il ragazzo del cinquale ha perso le rote e siamo rimasti con Rosati che non contribuiva molto ad aiutarmi quindi arrivato a 500 metri ho cercato di staccarlo e ci sono riuscito e ce l'ho fatto a vincere Federico Rosati Secom Forno Pioppi ti è mancato qualcosa forse nel finale sì mi sono mancate le gambe nel finale perché ho dovuto chiudere inizialmente sulla fuga che era partita era una gara che mi piaceva e volevo far bene e sono riuscito comunque a cogliere un ottimo secondo posto un secondo posto comunque che data la durezza della gara ti deve soddisfare sì sono soddisfatto del piazzamento anche se volevo vincere si viene sempre per vincere ecco Alessandro Iacchi per te la terza posizione una gara dura quindi anche per te è un terzo posto che ti soddisfa sì era una corsa con abbastanza salita infatti non credevo nemmeno di arrivare sul podio poi verso la fine della corsa sono entrato in questa fuga e siamo arrivati all'arrivo e agli ultimi chilometri ho scattato un inci però la stabia è stata superiore e non ce l'ho fatta andare dietro complimenti a loro e al vincitore Giuseppe Fioriti presidente dell'ASD Silicagnana una dei partner per quanto riguarda l'organizzazione della gara la vostra è una bella festa e una bella gara buonasera a tutti la nostra festa è ormai è arrivata la quarantesima edizione che dire niente da dire il pubblico e tutti i nostri ospiti sono 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 diciamo sono quelli che hanno sempre rappresentato questo evento in una maniera incredibile con la loro partecipazione la corsa che dire la corsa è la seconda esperienza di questa manifestazione o meglio evento sportivo che ha portato qui nel nostro paese di 300 abitanti tanta gente che ancora appunto qua nel nostro fra i nostri stand e a gustarci i nostri maccheroni noi avevamo ancora cioè io stesso non avevo notato una presenza del genere e quindi niente sarà sicuramente un'esperienza sportiva da ripetere non c'è due senza tre perché ho sentito anche il mio braccio destro qui intorno a Chiccioli che è l'anima proprio dell'organizzazione ciclistica e niente che dire tutti bravi un riconoscimento va al mio staff un riconoscimento a tutti quelli appunto che sono intorno alle corse e niente un augurio a ritrovarci qui un altro anno per la terza edizione Stefano Manzani presidente della Livorno Cycling Team la società organizzatrice una gara impegnativa ma che si svolta nel miglior modo possibile è stata una bella giornata di sport una gara molto impegnativa lo sapevano tutti già prima di venire perché ormai è famosa questa competizione siamo contenti che si è svolta nel migliore dei modi il tempo ci ha aiutato e quindi siamo contenti di aver fatto divertire questi ragazzi e tutto il pubblico che era sulle strade che era veramente numeroso qualcuno si è già speso in questo senso lo diamo l'appuntamento al prossimo anno? certamente è un nostro impegno e lo facciamo volentieri di portare i nostri colori livornesi in terra di Garfagnana per questa bella manifestazione per l'organizzazione Quinto Rocchiccioli una seconda edizione che è stata una bella edizione sì come secondo anno è riuscita bene la manifestazione siamo tutti molto contenti speriamo di continuare su questa riga proviamo a dare l'appuntamento anche al prossimo anno magari contando anche sugli sponsor che vi danno una grossa mano certo abbiamo intenzione di continuare il più a lungo possibile e si deve ringraziare innanzitutto gli sponsor che senza di loro non si potrebbe fare niente poi la misericordia che ci ha dato le ambulanze e tutti quelli che sono andati agli incroggi e poi anche quelli che mi sono dimenticato perché è così in questi momenti è così Don't leave me this way I can't survive, I can't stay alive Without your love, love, no favor Don't leave me this way I can't exist, I'm assuring this You're turned the case So don't leave me this way My heart is full of love and it's all for you So come on down and do what you've got to do You start to see this fire, you're in my soul I can't see it, it's burning, I'm in control So come on down and start to be in me Cause I don't know who's lovin' can set me free Don't, don't leave me this way I don't understand how I'm on your command So baby, please Don't, don't you leave me this way Oh, baby My heart is full of love and it's all for you So come on down and do what you've got to do You start to see this fire down in my soul I can't see it, it's burning, I'm out of control So come on down and start to be in me Cause I know you're lovin' So set me free Set me free Set me free Set me free When everybody's still at my door Don't, don't find you dead Don't, don't find you dead When I forget everything around me that I say Around me that I say Can't take the DJ Can't take the DJ Cause I know you're just talking to me Come on down and do what you're doing iktok